ciao bambini buongiorno ma lo sapete che questa mattina quando mi sono svegliata ho scoperto che in tante parti d'italia sta nevicando ma non saranno mica state le fatine della nostra storiella dell'altro giorno quelle che mettevano i brillantini sui fiocchi di neve a mandarci la neve noi gliel'avevamo detto che bastava la pioggia fatine fatine allora visto che leggendo quel libro le fatine ci hanno mandato un po di neve questa mattina ho deciso di leggervi un libro che si chiama il ciliegio che invece parla della stagione che stavamo aspettando la primavera e anche l'estate che verrà con il caldo e farà delle magie sugli alberi vogliamo vedere dai ve lo leggo il ciliegio un albero spoglio guardate non c'è neanche una fogliolina su questi rami un tiepido vento primaverile soffia sui campi proprio come era successo qua da noi era arrivata la primavera e sulle montagne attorno al villaggio finalmente era arrivato un po di caldino ma quanti fiorellini sono spuntati sui nostri rami spogli più vicina l'alberello allunga i suoi rami carichi di fiori ah bello sono venuti fuori fiorellini ma guardate quanti che bello c'è un buon profumo di fioritura provate ad immaginarlo le api sembrano danzare tutto intorno guardate intorno ai fiorellini ci sono tante api e tante farfalle che danzano ma chi c'è qua nel nostro libro ci sono due bambini qualcosa prende forma sui rami sui rami un piccolo frutto dopo il fiore ah davvero guardateli sono piccolini piccolini e sono ancora verdi come le foglie ma in cosa si trasformeranno i frutti ora sono ben visibili e crescono sulla pianta che affonda in una terra generosa le sue radici ah eccoli qua i nostri frutti che cominciano a diventare rossi e guardate persino un ragno ha deciso di andare a vivere in questo bel alberello eccoli al sole i frutti sono diventati rossi matureranno al punto da sembrare rosso fuoco e si è quando saranno pronte per essere mangiate queste buonissime ciliegie saranno di un rosso bellissimo eccole qua hanno riempito tutto l'albero guardate quante ce ne sono e sono veramente molto molto colorate 1 2 3 4 5 6 guardate i bambini stanno raccogliendo le ciliegie la chioma dell'albero è carica di ciliegie ma voi le avete mai raccolte le ciliegie dall'albero oppure vi siete divertiti a giocare a fare degli orecchini di ciliegie bisogna resistere però non bisogna mangiarle per giocarci a fare gli orecchini eh guardate quante ce ne sono da raccogliere immagino che questi due bimbi saranno molto contenti questa bimba sta mangiando le ciliegie presa una strizzata al primo morso presa la seconda dolce il suo sapore le mani e la bocca sono piene di ciliegie un gusto buono saporito che riempie e rallegra me lo ricordo è un buonissimo sapore quello delle ciliegie a me piacciono tanto e a voi guardate guardate quante ne stanno raccogliendo questi due golosoni bisogna piantare un seme di ciliegio presto il seme crescerà bravi questi due bimbi che piantano il seme così crescerà un'altra pianta di ciliegio sul grande albero arrivano tanti uccellini che poi voleranno via portandosi i semi delle ciliegie mangiati li lasceranno cadere lontano e così altri ciliegi cresceranno grazie uccellini che mangiate le ciliegie e portate i loro semini lontani così poi ci saranno tantissimi alberi di ciliegie ecco qua cosa sta succedendo non ci sono più le ciliegie nel nostro albero dopo che i frutti sono tutti raccolti le foglie del ciliegio diventeranno di un verde sempre più scuro ma il nostro alberello sta perdendo le foglie nel vento freddo autunnale le foglie cadono e il ciliegio si prepara all'inverno è certo perché dopo l'estate dopo che le ciliegie si sono maturate sugli alberi torna l'autunno le foglioline diventano tutte marroncine avete visto cadono vicino all'albero e poi ci si prepara per il freddo inverno le foglie secche diventeranno un nutrimento per il terreno e per l'albero e ancora arriverà la primavera i rami si allungheranno e si riempiranno di nuovo di vita tornerà la primavera mi raccomando fatine ricordatevelo non siamo in inverno dovete mandarci il caldo non la neve ecco qua bambini mi è piaciuta questa storia così rilassante ne avevamo bisogno perché immagino che ieri tutti voi abbiate lavorato tantissimo per fare la vostra bambolina e quindi oggi era giusto sedersi e rilassarsi un po con una bella storia io vi auguro buona giornata e ci vediamo domani ciao bambini data meli vi pensa